Roma! Roma! Ma che si sono pazziti? Non lo possono far? Qua c'è il Papa! Così anche tu sei dalla parte dei traditori. No, ti sbagli. Che razza di scelta può fare nostra sorella? Io non sto da nessuna parte. Ognuno te ne frega niente se fa tutto malora. Se diventi un vinto. Noi non siamo banditi, siamo partigiani. Difendiamo la nostra libertà. E sono un poliziotto, c'è un assassino da catturare. E io ho fatto una promessa. E siamo a noi a difendere il paese, ti sbagli. Contro altri italiani? Quelli che stanno dalla parte sbagliata. Stanno dalla parte dell'onore. E l'onore è tutto. Armi a terra! Vi prego di rispettare la tregua. Non comportatevi da banditi. Guarda che ne sa quanto noi. Solo che se la vive in modo diverso. Tutto il mondo sta combattendo una guerra durissima per la libertà. Tutto le vai in giro a fare domande, a fare indagini su un vecchio delitto di cui non gliene frega niente a nessuno. Franco, io li conosco, quei militari. Credi, mi sono degli esaltati. Attenzione! Attenzione! È andata con le brigate nere. Dovevate fermarla. Io sto con la patria. A noi! Con la mia patria, capito? Non sono un rosso. E non sono mai stato un nero. Però una cosa è certa. Io non sparerò mai a un italiano. Comunque, per finire questa storia, tutti saremo vinti, Lucia. Non trovi che sia bello affidare il ricordo ad un fiore? Sotto, dove giocare l'estero forte diuries. Allora, come, quello che sia a estanamo da, reichole remember che avere fondamentale, Grazie a tutti.